Reato di epidemia colposa è ciò che viene contestato a chi viene sorpreso fuori casa nonostante la positività al covid-19. La procura di Padova ha già avviato vari provvedimenti nei confronti di cittadini sorpresi all'esterno delle proprie abitazioni. I controlli sono operativi e chi pensa di farla franca rischia grosso. Ciò che manca è il rispetto verso gli altri e questi comportamenti assumono le sembianze di azioni criminali perché anche una banale uscita di casa, se si è positivi, si trasforma in un pericolo potenzialmente mortale per le persone che si incontrano lungo il tragitto.